Per la rassegna flash di oggi, mercoledì 2 novembre, su Notizie Nucliche, iniziamo con Papa Francesco. Essere santi significa non cedere alle logiche del potere e del prevalere. Bolicini, Friuli Venezia Giulia, Zanni, nona scure, proibizionista, Unione Europea sia madre e non la matrigna. Tranquel torna con camera N9, migranti estero, Farcone si rovescia nel mare Geo, decine e sono i dispersi, nessuna proroga per i navigator per l'essere Giulia Robert e Mattia Luter che impagò il conto dell'ospedale quando sono nata. Albania Regno Unito, intesa più forte sulla legalità e promozione di opportunità locali. Questo e molto altro su Notizie Nucliche, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e vi do appuntamento alla prossima rassegna. Buona giornata, Loredana. Grazie a tutti.